Musica Nella città di Altamira, nel cuore dell'Amazonia, soffocata dalla crisi economica provocata dalla grande distanza dai centri di consumo e di distribuzione dei beni e servizi, il complesso idroelettrico di Bellomonte, con la costruzione di almeno tre immense dighe, nasce come una soluzione magica contro la disoccupazione e per la ripresa dell'economia regionale. Le idroelettriche sono oggetti di discussione polemica. Da un lato c'è chi le defende perché producono energia pulita, mentre altri le combattono per i giganteschi allagamenti, che producono danni ambientali, cambiano l'equilibrio climatico della regione e provocano l'esodo dei contadini e dell'India. Preoccupata per il futuro dell'Amazonia, l'equipe di comunicazione della Pellazia di Altamira ha visitato la città di Tucuruì, con l'idea di verificare e registrare alcune conseguenze che l'idroelettrica può provocare. Musica Nella Tucuruì di oggi esiste un modello di sviluppo che da oltre venti anni promette cambiamenti erabili per tutta la regione del sud-est del Parà. Questa regione attraversata dalla strada trans-amazonica ancora oggi vive senza il tanto sognato asfalto. Il municipio vive come prima nella stessa situazione di tutti gli altri lungo la strada trans-amazonica di 3.000 chilometri, aspettando lo sviluppo promesso. Tucuruì ha sognato negli ultimi 25 anni di trasformarsi in cittadino a modello sia nell'economia sia nel benessere generale della sua popolazione e tutto questo grazie alla sua centrale idroelettrica, la maggiore del Brasile e la quarta a livello di importanza del mondo. Musica L'impianto produce oggi 4.200 MW di energia e soddisfa l'80% del fabbisogno energetico del Parà, il 97% del Maragnano e il 67% del Tocantins e integrando il sud-est e centro-ovest della nazione porta beneficio a milioni e milioni di persone contribuendo con l'8,7% all'energia prodotta nell'intero Brasile. L'idroelettrica funzionava nel 1992 con 12 turbine aumentate poi fino a 22 che alimentano 11 linee di trasmissione. Doveva essere potenziata ma si è fermata per mancanza di finanziamento. Un'osservazione Mentre l'energia arriva fino al sud del Brasile proprio nei comuni di Tocorui le comunità dell'interno continuano a usare la lampada a petrolio. Nella città c'è un altro problema. Allì arriva energia ma chi havi di Tocorui deve pagare una cifra assurda per l'energia che usa. E' quello che ammette e denuncia il vice sindaco della città. L'energia a Quinto Corui è molto cara. La rete Celpa Centrale Elettrica del Parà ci vende l'energia 5 volte più cara di quanto fa l'elettronorte nel resto dei paesi. Mi assustei mesmo perché foi algo intorno di 5 vezes mais do que o preço che era vendido dell'elettronorte. Quando il fiume Tocantins cominciò a essere chiuso centinaia di persone che abitavano nell'area che sarebbe stata lagata furono allontanate dalla loro proprietà. Una parte ricevete indenizi parziali dall'elettronorte e un'altra parte non ricevete niente. Io ho perso 48 ettari piantati a caffè, di pimenta, di plantazione di espina, di odio, di odio, di odio, di odio, di odio, di odio, di odio. Hanno distrutto tutto quello che aveva il cambio di odio. Nel 2005 ci siamo organizzati nel movimento degli espropriati. ci siamo accampati dove dovevano costruire la seconda parte della diga chiedendo che fossero considerati i nostri diritti. Io ho perso tutto, il mio marito, i miei animali, gli abri di cedro, di mogola, il mio baracco pieno di persone che lavoravano per me. Oggi non ho una casa per abitare. Vivo in affitto e in difficoltà. Eravamo otto fratelli e tutti sono morti. Poco tempo fa hanno ammazzato mio nipote. Ho perso tutto e non ho più niente nella vita. Decine di persone che vivevano bene oggi abitano in affitto e non hanno prospettive per il futuro. Dopo più di 20 anni dalla costruzione della diga non abbiamo ricevuto niente. non possiamo avere nessun tipo di ritorno che compensasse la concessione della barraggia. Per aiutare la popolazione interessata nacque OMAB, movimento di attingiti per la ripresa. Ebbe il suo primo congresso il 14 di marzo che fu scelto come il giorno nazionale di lotta contro le centrali idroelettriche. in Tukuruì movimento lotta per avere equi indennizi. Nel Brasile abbiamo più di 2.000 idroelettriche. Circa di un milione di persone hanno perso la terra a causa delle diga. 3 milioni e 400 ettari di terre fertili furono inondate. Di fronte a questa situazione una buona parte dei problemi non è stato risolto. Si calcola che per ogni 100 famiglie interessate dalle centrali idroelettriche 70 non sono state indennizzate. Ma l'idroelettrica del Tocantins non ha pregiudicato solamente i contadini e abitanti dei fiumi. I popoli indios possono perdere quasi tutto la loro cultura, la terra e i loro beni. L'inondazione è stata veloce e abbiamo perso tutto. La storia è raccontata dagli assorini e tristi. Secondo loro dopo l'epoca, che può essere chiamata del diluvio, si ebbero molti casi di morti. Molti si ammalavano di malaria, febbre e diarrea. Cercarono una soluzione nella medicina tradizionale, ma molti morirono di febbre e diarrea. Non ebbero tempo di preparare le medicine tradizionali. Molti corpi erano abbandonati o bruciati dentro le case per l'impossibilità di seppellirli tutti. L'idroelettrica ricordò altri sei comuni. Tukuruì, Repartimento, Breu Branco, Nova Episcuna, Goianesia, Giaconda e Itapuranga. Città che viderano collare la loro economia basata sulla pesca, sull'agricoltura e sulle miniere. Molte persone vivevano della castagna del Parà, che vendevano e commercializzavano. Oggi tutti i castagnetti sono allagati. Non esiste più castagna. Sono finite le piantagioni di assai. Altri vivevano dell'olio di Andiroba e oggi il lago ha messo fine a tutto questo. La chiusura del fiume ha messo fine anche alla vita che esisteva nel fiume e allo sfogo dei pescatori che vivono nella regione. Devono cercare di che mantenersi da un'altra parte perché dove erano tutto è finito. Ci sono pescatori ma non c'è pesce. La piana del fiume ha prodotto malattie che hanno colpito principalmente i riberignos, abitanti del fiume. Le erorazioni di antipassitari ancora continuano nella campagna. Le nuvole di fumo cariche di vereno per ammazzare gli insetti sono ben conosciute. Qui abbiamo casi di malaria. Cerchiamo aiuto nella città. Se troviamo un passaggio per arrivarci bene se non aspettiamo la buona volontà di Dio non c'è scala. Ma anche in città dove l'assistenza alla salute dovrebbe funzionare è precaria. Ne sono prova le file senza fine di persone alle porte degli ospedali che aspettano di essere visitate. A volte non c'è il dottore. Bisogna venire molto presto qui per essere visitati ed è molto difficile. E per me è un rio. Là nella villa permanente è differente. La villa è una specie di cittadina indipendente costruita dall'elettronote per accogliere i suoi funzionari e là c'è un ospedale senza dover andare fuori. Oggi Tukuruì ha più di 80.000 abitanti. Prima dell'idroelettrica la popolazione era molto più ridotta ma con l'idroelettrica è cresciuta enormemente. Anche se il comune riceve un finanziamento come compensazione finanziaria per aver accolto la diga le strutture della città sono insufficienti e precarie. Ancora viviamo in zona lagata. Quando piove molto togliamo l'acqua di casa. Il centro commerciale che si estende appena per due vie alimenta l'economia quotidiana della città. La sicurezza pubblica è ancora un sogno. Il quindicesimo distretto di polizia di Tukuruì è nuovo e dipende da un'altra città distante Marabà. La zona rurale del comune non ha assistenza. Gli alunni percorrono anche ore di barca per arrivare all'unica scuola della regione. Nella stessa aula un'unica maestra insegna più classi facendo una specie di miracolo nell'educazione. Metto qui quelli della prima classe in un angolo della sedia. Quelli del secondo anno nell'altro angolo e quelli del terzo e del quarto dove ancora è lì. Alcuni utilizzano la sedia sono la sedia altri utilizzi nel mio tavolino per scrivere. Passo nei quattro gruppi e dico che devono fare. La stessa energia elettrica manca. Vediamo che c'è tanta energia prodotta e va fuori ma in casa non c'è. è un'altra gente che è nostra energia pace è nostra. Conoscere questa realtà di Ducuruì è importante e aiuto per la regione dello Shingu che oggi ascolta le stesse promesse fatte 30 anni fa a queste popolazioni. Ve lo monte qualcosa su cui riflettere seriamente. È difficile credere che sarà solo una diga molto difficile e incoerente. per funzionare durante tutto l'anno tutti sono d'accordo che devono esserci varie dighe altrimenti sarebbe un investimento con poco ritorno. Alcuni politici commercianti e imprenditori sostengono che Bello Monte è un grande bene per la regione ma le opinioni si dividono a partire dagli interessi. La discussione è antica e ha fatto vittime come il sindacalista Demi Alseo Federico o Dema che fu assassinato nell'agosto del 2001 in Altamira. Questo è un progetto che nasce totalmente privatizzato e già questo fatto per noi è un grande problema. In primo luogo il fiume Shingue è patrimonio dell'umanità. È un fiume bello è immenso e taglia grandi foreste terre indigene e terre abitate dai riberini. Nascendo il progetto già privatizzato l'Eletronorte corre contro il tempo trascurando le questioni giuridiche e i dubbi sollevati da Lei Arrima studio di impatto ambientale obbligatorio per le grandi opere per poter completare e vendere il suo progetto. Belomonte ha già stuzzicato la curiosità di ricercatori di varie zone della nazione che lavorano indipendentemente alle pubblicazioni di studi di impatto ambientale e sociale. Studi di questo genere sono stati iniziati anche dall'IBA l'istituto forestale brasiliano. oferranco per le grandi opere Grazie a tutti. Grazie a tutti.